Ripartenza e unità sono state le parole più utilizzate durante la presentazione di Sinistra Italiana a Gubbio. Il nuovo circolo da tempo aveva annunciato il proprio arrivo nella città di Pietra, in data 2 ottobre aveva votato il proprio segretario nella persona di Simone Pellegrini e ora si è presentato ufficialmente in un partecipato incontro alla società operaia di mutuo soccorso. A presentare la nuova realtà Fabio Barcaioli, Roberto Pileri e Simone Pellegrini, e rispettivamente segretari di Sinistra Italiana dell'Umbria, della provincia di Perugia e di Gubbio. Tutti hanno sottolineato la necessità di ricompattarsi dopo la sconfitta del centro-sinistra a Gubbio, delle ultime amministrative e di far rinascere una sinistra unita, plurale, vincente, in cui l'ascolto e il confronto diventino l'antidoto ai personalismi del passato. Sinistra Italiana rinasce a Gubbio perché c'è effettivo bisogno di ripartire da quelle che sono le basi di una proposta di sinistra che sia unitaria, che parta dai programmi, dalle tematiche, che sono effettivamente i punti che devono unire e non dividere quelle che sono le varie forze in campo a sinistra. Come abbiamo visto dalle ultime elezioni politiche, il nostro obiettivo non deve essere quello di ricercare il pelo all'interno di qualsiasi problema, ma unificarsi e trovare le tematiche che ci accomunano. Qualche sottolineo dalla scarpa è stato sicuramente tolto, resta il fatto che comunque anche soltanto l'intervento delle persone che sono venute da Nafissi, a Piergentili, Damiani, chi per loro fa vedere comunque che c'è interesse e questo per noi è prioritario perché effettivamente è dalle forze che sono già in campo che bisogna direttamente colloquiare e ripartire per una condivisione di intenti. Convoiare quante più possibili persone all'interno del nostro movimento vogliono dare una mano e la propria personalità e professionalità e dopo questo iniziare subito a lavorare per quello che sono i prossimi cinque anni in cui bisognerà trovare l'accordo e la comunità di intenti con tutti quanti. Intenso e a tratti acceso il dibattito durante gli interventi di alcuni dei protagonisti delle passate amministrative eugubine, dagli ex assessori comunali, Valerio Piergentili e Gabriele Damiani, ai candidati sindaci, Gabriele Tognoloni e Leonardo Nafissi, fino all'ex consigliere comunale e attuale candidato alle regionali del Movimento 5 Stelle, Mauro Salciarini. Il peso delle divisioni che ha inciso sulla sconfitta e la volontà di ripartire compatti per il futuro sono state le considerazioni condivise da tutti, insieme al plauso per l'iniziativa di Sinistra Italiana che con l'occasione ha presentato anche la propria candidata per le regionali del 17-18 novembre, Gloria Severini. La scelta di candidarmi è venuta dalla base del circolo che abbiamo appena costituito, ha spiegato, le regionali non sono il fine di questo percorso che è appena nato, ma rappresentano solo una sosta. Il nostro obiettivo è il benessere della città di Gubbio. Vogliamo essere, ha detto ancora Severini, un motore di ripartenza e avremo le porte aperte per poter dialogare con tutti quanti. La sinistra è bella quando è unita e quando è unita è vincente.